Everybody's Talking Erin Nilsson E' il giorno più corto dell'anno e domani inizia la stagione invernale E domani c'è anche lo shoppero dei supermercati Però 21 dicembre come al solito brevissimo passaggio sull'almanacco 110 anni fa nel 1913 appare il primo esempio di parole crociate Ma dai Sul quotidiano New York World Ah sono... pensavo sono più antiche Di proprietà di Pulitzer tra l'altro Di Pulitzer? Sì Ah quello del premio E niente È l'unica cosa interessante No non è l'unica cosa interessante È nata Jane Fondan 86 anni fa Frank Zappa 83 anni fa C'è un bellissimo documentario su Netflix su Frank Zappa Molto interessante Io non lo sapevo niente di Frank Zappa Mi è piaciuto davvero tanto Che non è solamente una faccia sulle magliette No Diciamo anche ai ragazzi più giovani Anche se chissà cosa direbbe adesso della sua faccia sulle magliette Perché veramente era uno Un vero anticonformista Sì Un vero artista Adesso sarebbe incompreso Cioè già lo era all'epoca molto probabilmente Adesso sarebbe completamente incompreso Sono quegli artisti che veramente Puoi apprezzare Puoi comprendere Forse solo dopo Dopo la loro dipartita Frank Zappa È dipartito un po' troppo presto Sì assolutamente A proposito dei grandi della musica Vi invito a vedere Poco tempo fa È stato il compleanno di Red Ronny L'abbiamo detto Sì E ho visto Forse l'ho già detto Se l'ho già detto in radio O fuori No è fanito Andate a vedere In occasione del suo compleanno Ho caricato un video di 20 minuti Sul suo profilo In mezzo alle robe Che possono essere tranquillamente Non condivisibili Sono il primo a non condividerle In quel caso lì Tolte alcuni passaggi Sul fatto appunto Della famosa intervista A Jimmy Hendrix Nell'aldilà Racconta appunto Di quando è entrato in possesso Della chitarra Per due anni E c'è un video In cui parla con Gianni Morandi Al telefono Mentre Sta acquistando All'asta A Londra Il La chitarra Ed è veramente Un pezzo di storia Sul profilo Direi Dovano Esatto Ok Bene Ricordiamo Cioè È bello Che ricordarlo Arrivano i primi Whatsapp 3317853555 Buongiorno amici del mattino Di Cristal Radio Capita anche a voi Per le feste Che per le feste Organizziate qualcosa E qualcuno vicino a voi Si ammala Dei malanni stagionali Mettendo a rischio I vostri progetti Sì Tutti Sì Tutti Tutti Io ho fatto Purtroppo Purtroppo Succede Io ho fatto un po' di giri Di uffici Di vari amici Così per andare a fare Gli auguri Portare qualche cadò Così così C'erano Il Cristo Il Cristo Il Cristo Mietitore C'è una roba Uffici vuoti Ma oggi sono i smartbook No malati Infatti lo dico dopo Che gli hai toccato tutte le cose Voi lì Tocchi la schivaniera Ma perché non c'è Giovanna Ma so Hai appena toccato la schivaniera L'importante caro Alberto Che non sia tu la persona Infatti Però sono tanti Sono tanti Tenete presente che Secondo me Se oggi Entrate in contatto Con qualcuno Che ha covid O cose del genere Natale ve lo fate Secondo me comunque Sì Capodanno Con i tempi di incubazione Ce la facciamo Luce verde Purple disco machine Duke Dumont Nothing by the Thieves Sometimes Something Time to Ma sì Sono una maria di robe scritte Un po' sì Quando sono più di due artisti Poi non le vado a caso Basta Tanto Perché gli artisti Moderniano questo vizio Di non poter fare Delle canzoni da soli Non lo so Cioè il tuo amico Vasco Fa canzoni da soli Tranne una Vedi Tranne una 200 milioni di canzoni Una Come dico sempre Vasco ha sempre detto Io i duetti Li faccio solo sotto al letto Va bene Ecco Sotto il coperto Sotto il letto Sì Sotto il coperto Sotto il coperto Anche Lucio Baggiore Battisti Battisti C'era Battisti Mogoll La coppia Ma Mi tre o due Chiamavano Se non sarebbe In sette o otto Per una canzone Per cantare poi Canzoni da due minuti E mezzo Scusate Polemica Sono polemiche Con le nuove New music Con le etichette Quelle robe lì Con le mezzo Comunque L'è anticipato prima Venerdì 22 dicembre Oltre che essere il giorno più corto dell'anno Sarà anche Il giorno in cui sciopererà Possiamo dirla In breve Il terziario Perché Commercio Distribuzione organizzata Ristorazione Settore alberghiero Domani contestano i salari Al palo Nonostante l'aumento Dell'inflazione Venerdì 22 dicembre E dosso di Natale Potrebbe rivelarsi Una giornata difficile Per la grande Distribuzione Le catene Commerciali Singoli negozi La ristorazione collettiva Eccetera eccetera Da chi è proclamato Lo sciopero Perché questo è importante Da chi Stiamo parlando di CGL CISL E UIL Quindi siamo davanti Ai tre confederati Il sciopero Di tutto il terziario Domani sicuramente Disagi Ci saranno Per quanto riguarda Il capoluogo Ci sono orari strani Per quanto riguarda Il capoluogo Lombardo Vi do gli orari Della protesta Del presidio Si ritroveranno Alle 9.30 In piazza Castello E poi partirà Al corteo Per approdare Che approderà Alle 11.30 In piazza Sempione Arco della pace Quindi L'agitazione però Dura otto ore O solo la mattina Non c'è dato a saperlo L'agitazione Penso sia Tutto il giorno Ok Perché poi in base Beh sì Perché poi sono i turni Quindi in realtà Se tu del giorno pomeriggio Non è che fai sciopero la mattina Ci sta Effettivamente Domanda stupida Sono molto curioso Domani mi ricordi Di andare a fare un giro In supermercati Per favore Ricordiamo Perché sai che Mi dimentico tutto Perché sono curioso Di andare a vedere Se veramente Ci si rende conto Di questo sciopero Certo Certo So che nella grande distribuzione Nei grandi centri commerciali In cui ho delle spie Ci sono molti I volantini Attaccati Dei sindacati Quindi c'è una C'è un movimento vero Domani Ci sarà un vero movimento Che secondo me Agiterà molte persone Stiamo parlando Di un intero settore E' bene Un intero settore Molto ampio In una città come Milano Adesso non me ne vogliono Ma gli amici di bareggio Che salutiamo Che salutiamo sempre Ma ce ne voglio Però Milano Milano è un terziario unico Se ci pensi I servizi no Cioè sono Ristorazioni Ristorazioni Come è che era Ristorazione collettiva Hai detto Le catene Catene commerciali Negozio Ristorazione collettiva Per ristorazione collettiva Immagino Non il ristorante di famiglia Pensando a quando ero a scuola E c'era lo sciopero Eccetera Possibile che tipo Le mense scolastiche Quelle cose lì Però se si parla di terziario C'è sempre E ha a che fare con il pubblico Come per esempio Perché alle scuole c'è sempre Quel margine di servizi essenziali Che viene tutelato Portatevi un pacchetto di cracker da casa Sono andata a scuola Mi dava pensare Così sfigato Mi dava il cracker e la banana Guarda che finché andavo a scuola Io c'era gente col cracker Tutti sfigati Sì infatti Poi andavo al bar Cercavo di A proposito di gente Che non è capace di fare più canzoni da sole Quello che arriva adesso Il mitico Gianni Morandi Che da quando ha incontrato Lorenzo Cherubini In arte giovanotti Ha fatto una nuova vita Una nuova vita piena piena di allegria Buon I am Daddy Cool 7.33 minuti Ritornate Da Bocattini Disco Dance Famosa per tutti noi però Il barcarolo va Controcorrente Gli anni d'oro Della televisione Privata Di Bonolis Quell'altro Laurente Scusa Verusconi era difficile da farci stare In una Difficile Presidente Molti usavano Presidente Nelle canzoni Nelle canzoni mettevano Presidente Comunque 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5 7.33 minuti Secondo blocco Secondo blocco Che apriamo Con una notizia Che secondo me Ha senso dare Perché è finita talmente tardi La partita Che ha senso Ieri L'Inter È uscito Dalla Coppa Italia Sorpresa Giocando a San Siro Ah che cosa c'era ieri Sentivo un po' di rumore Non capivo cos'era Ieri Coppa Italia Inter Bologna A San Siro 1-2 Per il Bologna Succede tutto Nei tempi supplementari Ah per quello è finita tardi Esatto Perché c'è il turno unico In Coppa Italia E quindi Se vi siete appena svegliati Siete andati a dormire O vi siete addormentati Durante I supplementari E siete morti Sul divano Letteralmente Adesso noi vi diciamo Che l'Inter è uscita Dalla Coppa Italia E la sorpresa dopo il Napoli Che è uscita Anche lei a sorpresa Il giorno prima Perdendo 4-0 Contro il Frosinone Tutti fuori Esatto Quindi un saluto Al nostro amico Luca Carboni Che sarà contento Che Bologna È passato Intanto lo citiamo La maglia di Bologna Sette giorni su sette E Silvia lo sai ragazzi No 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 Stupido Io che non avevo capito Che canzone fosse Guarda Cantata Così interpretata Bene da te Interpretata proprio Allora L'altra vicenda del giorno Anzi dei giorni Della settimana E sicuramente anche Del mese di dicembre È la Fer Ferragni Cosa succede? Ne parliamo perché Per quanto riguarda Milano Specificatamente Il Codacons Che sappiamo non essere Sappiamo non essere Anzi Mettiamola giù così Sappiamo essere particolarmente Ostile Nei confronti Dei Ferragni Chiede al comune di Milano Chiede al comune di Milano di ritirare Non credo che sia mai stato ritirato Un ambo giù Non dava nessuno Adesso non viene tutto Ma non ha proprio senso Ma poi adesso Il Codacons Ripeto Che fa un ottimo lavoro Perché attenzione Il Codacons è lo stesso Che anni fa Ha dato la La multa A quegli dei divani Perché facevano Gli città ingannevole Cioè Era riuscita Scusa A portare in tribunale A far multare Quegli dei divani Perché giustamente Domani chiudiamo E poi non chiudevano mai Quella roba lì Quindi fanno il loro lavoro E lo fanno anche bene Poi però Non capisco perché Devono trascendere E superare Il limite Con queste uscite Perché altro Accanimento Nel loro confronti Sì Accanimento terapeutico Ripeto Lungi da me Difendere No no Chiara Ferragni E Fedez Però questo accadde Anzi Facendo così Si rischia che poi Anche chi non li vuole difendere Come te Poi li difendano Cioè Non so come dire Però nel senso Comunque Quasi simpatizzi Ecco Ecco Simpatizzi poi In un certo senso Con loro anche Che Tutto vorremmo Tra ne far quello Mamud Con cocktail d'amore Quello che Ogni mattina Beviamo qui Io e te insieme Adesso non esagererei Io No Non so Volevo Volevo essere così Intimo insieme a te No vabbè L'ho prezzo molto Schifami No no A parte che cocktail d'amore È una di quelle Frasi veramente Che mi fa venire Un po' L'otticalia Va bene No vabbè Come La veneteso Anche quella Quella è tipo Un'altra Comunque O amo Amio non si dice più Amio Amo purtroppo Amo si Amo si Purtroppo si dice Ora le persone Soprattutto molto Vigine a me Dicono amo Ed è una cosa Che io Amio no Amio è andato Ma Amio pensa Viola Chiedo Viola Alla regia Amio Alzati in piedi Facci un segno Amio è passato Non è passato È andato È andato È andato Si diceva ben due settimane fa Quindi è passato Capito Cioè ormai è così Il tempo Però intanto Elisa Esposito Ossia la prof di Corsivo Che ha fatto partire Tutto questo Adesso Ha una carriera Digitale Mettiamola giù così Avviata Quindi E cosa fa? Tutto altro Cioè non parla di Corsivo Ha tanti follower Di conseguenza Pubblicizzarò Robbe famiglie Scherzo Robbe del genere La torre Di Largo Treves Sarà demolita E ricostruita Il nuovo palazzo residenziale Pronto entro il 2026 Mercoledì Sono arrivati Ai cittadini Della zona Ai residenti Della zona Scusate La lettera In cui appunto Si diceva Che Si informava Il vicinato Dell'avvio Dei lavori Appunto Per Gennaio Il progetto È quello di Un nuovo palazzo residenziale Entro il 2026 Il nostro desiderio Leggo il virgolettato Che crediamo Sia ben rappresentato Dal progetto È di creare Un luogo elegante Armonico Nel contesto pregiato In cui si colloca Si legge Nella missiva Dai toni rassicuranti Che è Evidentemente Da sottolineare È un attore Che è nato Nel 1955 Da un progetto Di Arrigo Arrighetti Ed è destinato All'abbattimento Appunto Alla completa Ristrutturazione Le società dei residenti Chiedono una cosa Cantieri poco invasivi Eh beh Sì Poi Cosa vuoi anche È un attore Adesso non so di quanti piani Ma tanti Sono 7-8 piani O di più Sono 10 piani Tanti raggiù Tra prendersi Peccato Però perché È stata Utilizzata Durante il fuorisalone Nello scorso anno Per fare un'opera Nel senso Infatti anche adesso È ancora C'ha queste finestre Colorate di Azzurro Rosso E nero Che fanno una sorta Di scacchiera Peccato Che non sia Cioè che non si riesca A valorizzare Ma bisogna buttarla giù Per costruirla E ho molta paura Di vedere Cosa nascerà Al suo posto Ah quello lo capiremo Quello lo capiremo Intanto Cosa succede Continua la protesta Degli studenti Sotto Regione Lombardia Sotto palazzo Lombardia Scusate Per la vicenda Del taglio Di circa Il 20% Sulle borse Di studio Appunto Concesse Dalla regione Dopo il presidio Di due giorni fa Che ci aveva anticipato Sostanzialmente Paolo Romano Qua ai nostri microfoni Anche ieri Presidio Con una scenetta Sostanzialmente Abbiamo due Due ragazzi Vestiti a Babbo Natale Con Una Con la faccia Di Fontana Da una parte E di Simona Tironi Dall'altra Che è l'assessora All'istruzione Di regione Lombardia Altri due ragazzi Che hanno in mano Io sono una scuola paritaria E io sono un'azienda Alle quali Chiaramente Questi Babbi Natale Danno dei sacchetti Pieni di soldi E' abbastanza esplicativa E' abbastanza esplicativa la protesta Un Robin Hood al contrario Secondo loro E' un Babbo Natale Che regala doni solo Ai ricchi E alle aziende di questa città Questa è la protesta Ma adesso ci fermiamo Con la rassegna stampa Perché sta per partire Un pezzone Sta per partire Un pezzone di anni Che io Non ho vissuto Ma che ascoltando Questo gruppo E il frontman In qualche maniera Quasi quasi Riesce a vivere Gli avresti voluti vivere I grandi anni Dove c'era una regina La regina del celebrità 883 744 minuti Crystal Radio Good morning Milano E a disco music Cioè no Non è quella Non sembrava eh La regina del celebrità 883 E' vero Sembra di viverli Quegli anni Io Gli ho un po' vissuti Non andavo al celebrità Non andavo in discoteca Però con un Deca Con un Deca Si riuscivano a fare cose Adesso Ricordiamo che In realtà anche lui dice Che con un Deca Non si poteva fare nulla In realtà Sì No però ok Di tanto Però più da adesso Sicuramente No beh il Deca Lui bastava per la benzina Sì sì infatti Passa all'automatico Alla fine Non si riusciva A prendere una pizza Una birra Eccetera Metti la benzina Nella moto E fai il giro Esatto Io c'ho sempre qua La roba che non mi hanno preso Ragazzi Ah che non mi hanno preso Ricordiamo Chi magari non ci segue Nelle puntate precedenti Allora 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 Quando ripeto le cose Scriveteci Scriveteci La comparsa La comparsa Uno che passava dietro Nello sfondo Per il nuovo Per la serie Hanno ucciso L'omoragno Quella appunto Che racconta la vita La storia Di Max Pezzale Degli 8 8 3 Non t'hanno Considerato Dovevo mandare una foto Da dietro Da dietro Perché con la nuca Mauro Repetto Ci potrei assomigliare Sì ma non dovevi far Mauro Repetto Dovevi far la comparsa Certo però Ma soprattutto Avrei stato chiesto Di mandare una foto Insieme a un mezzo Di locomozione Del gatto Anni 80 Anni 90 Anni 90 scusa E tu gli hai mandato Con una bicicletta Una Bianchi Lusso Degli anni 70 Chissà perché non t'hanno preso Così E che avrei dovuto portare Tutti i giorni A Pavia In realtà noi comunque Abbiamo il pretendimento Che questa roba qui Sia stata fatta anche Per raccattare su un po' Di mezzi dell'epoca Vespe Motorini Senza che la produzione A prima Gic Esatto Sempre frafrasando Canzoni di Max Comunque c'è qualcosa Che arriva ancora Dalle redazioni Dei vari giornali Locali di Milano Purtroppo Purtroppo Non news positive Anzi Milano Travolto sulle strisce Pedonali Da un pirato Della strada Caccia Un'utilitaria Chiara L'incidente In via Chiodi Alla Barona L'investitore Fuggito Senza prestare Soccorso Al setaccio Le telecamere Di sorveglianza Della zona Si legge sul giorno Milano Sempre più pericolosa Questa città Anche a piedi Davvero Io continuo Io continuo A ranzarmi in testa Con la roba Del nostro ospite Che ci qualche Ormai mese fa Federico Del prete Di l'ambiente Lombardia Che è venuto a dirci Diversi Spazi diversi Per mezzi diversi Io continuo A ranzarmi in testa E a pensare Che forse L'unica soluzione È quella Ma spazi diversi Vuol dire spazi diversi Non vuol dire Righe gialle Scritte per terra O piccoli cordolini Che non servono a niente Spazi diversi Tra l'altro Ieri ho notato una cosa Milano Verso Beatrice d'Este Da quella parte lì Ha praticamente Tre circonvallazioni Una di fianco all'altra Cioè Hanno senso Quindi devo questo Testa dall'alto scorrimento Sì sì Ma è proprio che fanno il giro Come la Cinque Prezzo C'è un parallelo Tra l'altro sono un quarto Anzi andiamo verso l'esterno E tra parentesi Facendo in tram Da Porta Genova A Porta Romana Con il tram 9 Quattro volte Bloccati Da dei camioncini Messi male Sui passi carri Perché stavano consegnando Anzi Tu vedevi poi il tipo Che arrivava di corsa A franto Con i pacchi Da caricare Quindi Cioè in realtà Proprio Cristo Quello stavo lavorando Però mi metto anche Nei panni del tramviere Che ogni tre per due Capito che è Natale Però insomma Anche meno Abba Gimmi 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 8.09 Il nostro Crystal History Molto denso oggi Beh sì Poi il pezzo finale Penso sia stato campionato Da chiunque Abbiamo fatto musica dance Negli ultimi 40 anni Quindi Davvero un grande pezzo Quest'oggi Allunghiamo un po' Il momento degli ospiti È venuta Aggiungerci Un graditissimo ospite Stiamo parlando di Elisabetta Roncati Buongiorno Elisabetta Benvenuta Buongiorno a voi E grazie Grazie per l'opportunità Allora Elisabetta Tu sei famosa Sull'Instagram Sull'Internet Come dicono Quelli da mia età Perché sei una Influencer Di arte Un art influencer Con tutto il peso Che ne deriva Devo dire la verità Soprattutto in tempi Di caccia alle streghe Come questi Per giusti motivi Adesso ne parliamo In nome d'arte In questo caso Mai sei la parola più giusta Il tuo nickname Su Instagram È Art Nomad Anzi Voi hai detto Che in realtà è francese Quelle parole Che puoi leggere Un po' in maniera dell'altra Art Nomad Milano Giusto? Milano Milano Giustamente Perché sei francese E appunto tu racconti di arte Prima di partire però E anche soprattutto Di raccontare poi Anche di un libro Che hai scritto Che ha a che fare con l'arte E il mondo queer Giusto? L'arte queer L'hai intitolato Scusami Dobbiamo però fare una precisazione Perché insomma Si parla spesso di Hate speeching Di violenza Di violenza fuori e dentro la rete Di violenza di genere E tutto È successo anche a te Diciamo che Ahimè Dobbiamo raccontare un po' Questa storia In questi giorni sei Un po' sotto attacco Da pochi noti Per futuro Non sono molti Ma quelli pochi Fanno male E anonimi Immagino Soprattutto Ovviamente Ovviamente Perché quando si Cerca di colpire una persona Ahimè Non si ha Molto spesso Il coraggio Di farlo Con il proprio nome E cognome Poi online Figuriamoci Questa è un po' La prassi Dei cosiddetti Come hai detto anche tu Leoni da tastiera E tutto è partito Da un errore Perché È stato prodotto Praticamente Un articolo Con delle informazioni Sbagliate Che è stato prontamente Corretto Ma Sembra quasi Stata una scusa Un po' Per cliccare Visto che Gli influencer Giustamente Come dicevamo prima Sono sotto l'occhio Del ciclone Soprattutto alcune figure Per determinati Truffe Perché cioè Che hanno Che hanno fatto Nei confronti Dei consumatori Io Non ho truffato Nessuno È stata un po' La scusa Sicuramente Per dare contro A una donna Ahimè Dobbiamo ribadirlo Perché Non possiamo nasconderci Dietro un dito Ormai Perisce Una donna al giorno E poi Anche per il mio impegno Sono Sono fra virgolette Un personaggio scomodo Io mi impegno A favore Dalla Della comunità LGBTQIA E quindi Quando Magari per qualche Like in più Per qualche Click in più Si scrivono Determinati Pezzi O si fanno Determinate Esternazioni Non si calcola Prima Che cosa ci sta Dietro E comunque Una persona Che fa attivismo Nel momento In cui Si scatena Una forma Di odio Ahimè Si dà Voce E si dà Diritto All'online Nascosto Come dicevamo Sotto falsi profili Di insultare Addirittura Mi hanno minacciato Di sfregiarmi Con l'acido Infatti tu hai pubblicato Quel commento Che fa capire tutto Un po' Di quello che stiamo dicendo E anche del perché Uno magari non riesce Poi più a passarci sopra Cioè I leoni da tastiera Il fatto è che Vediamo quanto Il ritardo Nelle denunce Soprattutto Nell'ultimo caso Di Vanessa Che è successo In Veneto Veramente un giorno fa Dare poco peso A una denuncia Ahimè A volte Porti All'atto gravissimo Porti alla morte E uno non può saperlo Le forze dell'ordine In quel caso Hanno addirittura Quanto pare Dichiarato Che Non avevano dato L'importanza Giusta E non avevano agito Prontamente Di fronte alla denuncia Il discorso Che poi ci pensiamo Sempre dopo Uno a priori Non può sapere Come va a finire Non può sapere Se sarà Se finirà In un non nulla Oppure se uscendo Dalla porta di casa Verrai aggredito O aggredita E quindi Quando accade Bisogna agire subito Sinceramente Fosse stato Anni fa Anch'io sarei caduta Nell'errore Di Di non dare segui Di dire Lasciamo perdere Sono profili falsi Ti fanno male Perché male Lo fanno Siamo sotto Natale Dovremmo essere tutti più buoni Guarda che cosa siamo diventati Dovevamo uscirne migliori Dalla pandemia Non era così Non era stato così Non era stato così Poi l'assurdità Di tutta questa cosa Se già così Non fosse assurda È che oltretutto Tu vieni attaccata Per la tua Vicinanza appunto Alla comunità LGBTQI plus Ma in realtà Tutto parte da tutt'altro Da un errore Come dicevi tu Fatto su delle date Di un artista Che ha fatto Un errore Come vediamo tutti i giorni Facendo una segna stampa Errori Che vediamo fatte Su grandi testate E che io e te Facciamo ogni tre minuti Cioè nel senso Per fortuna Per fortuna Siamo uomini Mi viene anche da dire questo Forse Eh sì È facile È facile attaccare Una persona giovane È facile attaccare Una professionalità Che adesso Viene molto googlata Online Perché c'è da dire anche quello Ma non bisogna fare Di tutta l'erba un fascio E soprattutto Come dicevo Prima di lanciarsi In delle esternazioni Bisogna vedere Anche il trascorso Di una persona Lo vediamo a volte Con delle personalità Tipo Roberto Saviano Vengono attaccate Ma uno poi non pensa A dire sì Sto attaccando questa persona Ma cosa può succedere Che trascorso ha questa persona Lo posso mettere Magari Non bisognerebbe attaccare Nessuno per partito preso Però Se attacco Quel determinato soggetto Che cosa scateno Qual è il suo retroterra Che cosa può succedere Elisabetta Mi sa che ti chiedi troppo Da certa gente Che forse Non riesce neanche A distinguere Una E accentata Da una E senza accento Da una A con l'H Forse mi viene da dire È un po' complicato Che riesca a fare questo Ragionamento Poi i punteleoni da tastiera Sono dietro l'angolo Direi però Di chiudere qui l'argomento Perché invece sei qui Per raccontarci delle cose belle Sei qui per raccontarci Di parlarci di arte Ma so butto del tuo libro Lo facciamo fra pochissimo Subito dopo Con la pesce di Martino Con Non è proprio arte Però è sesso e architettura Dai È un titolo molto particolare Sì però Ho cercato una canzone Che potesse In qualche maniera No insomma Non c'entra niente Mi suonava bene Penso sia dedicata Alla Bovisa Visto che c'è Il Politecnico Vanno tutti in giro Con i modellini Può essere per quello E il sesso Sì tu quello No perché dico La Bovisa Pensavo che tu fossi Il sex symbol Della Bovisa Certo E allora Dalla sex symbol Della Bovisa Lorenzo Masieri Salutiamo Con la pesce di Martino Con sesso e architettura Con la pesce di Martino Alle 8 e 19 minuti Su Crystal Radio Good morning Milano Ricordiamo sempre Il numero A cui potete contattarci 331 7853 555 Grazie per la compagnia Che ci fate ogni mattina E grazie a voi Per farci entrare Nella vostra routine Quotidiana Assolutamente la mattina Noi siamo quelli Del lavaggio dei denti Del scegli che calzini metterti Noi siamo quelli lì In quel momento lì Siamo insieme ai nostri ascoltatori Quindi dobbiamo Anche momenti peggiori Probabilmente Non volevo citarli Probabilmente anche momenti peggiori Sì anche momenti peggiori In cui magari li aiutiamo però Siamo così bravi Che riusciamo ad aiutarli Anche in quello Invece sicuramente È bravissima Perché l'ho conosciuta L'ho conosciuta da poco Ma mi ha affascinato Per quello che fa Per quello che dice Per quello che racconta Ci siamo già collegati Tra cui poi diciamo Che già collegati Ci siamo visti anche In alcune situazioni Nel corso Dello speciale di Santo Andrò Sì sì Bravissimo Brava Ma come eri attento Bravo Ero qua Ero un'altra parte Stai male Intanto dormi Lo so Ma Elisabetta Il nostro ospite Elisabetta Roncati Ha scritto anche un libro Appunto Che vogliamo oggi raccontare Di cui dobbiamo però Un po' spiegare il titolo Nel senso che allora Arte queer Cercare di spiegare a noi Poveri mortali Cos'è il queer Allora In realtà È un termine Che se andiamo a analizzare Linguisticamente Arriva dalla lingua tedesca Ok E ha il significato Di obliquo Trasversale Quindi Non in linea retta È stato poi assunto Dalla lingua inglese E soprattutto Veniva usato Vedi anche qua Una bella storia di rivalsa Veniva usato Come un termine di scherno Nei confronti Degli appartenenti Alla comunità LGBTQIA Per definirli come Fra virgolette Non normali Appunto Divergenti Obliqui Che non si comportavano Come si sarebbero dovuti Comportare Le altre persone E cosa ha fatto la comunità La comunità Ha assunto questo termine Ha fatto proprio questo termine Come un segno di rivalza Ha detto Voi vi definite O ci definite Meglio In tal maniera Noi utilizziamo Noi utilizziamo la vostra definizione Per farne un vanto Ci freggiamo noi stessi Del titolo Che noi ci date E così hanno eliminato La connotazione negativa Ma col passare del tempo È diventato un termine ombrello Che accoglie Tutte le sfumature Di orientamento Di identità sessuale E quant'altro Quindi Praticamente raccoglie in sé Tutte quelle sigle Tutte quelle terminologie Che in realtà Vanno a deviscerare Ogni singola sfumatura Allora adesso Entrano i panni di mia nonna Che magari gli piace tanto l'arte Ma diceva Che era bisogno Stacchia a parlare dell'arte Me l'ha detto tante volte Maggio Di quelli obliqui Cioè Perché raccontare Quel tipo di arte? In realtà Se noi andiamo a vedere Hanno meno possibilità D'espressione Hanno avuto storicamente Meno possibilità D'espressione Di altre forme creative Anch'io mi sono posta La domanda Se valesse la pena Incasellare Comunque dare Una definizione netta A una forma Forma artistica Che di per sé È qualcosa di libero È qualcosa Non Rinchiudibile In compartimenti stagni Ho chiesto anche A degli appartenenti Alla comunità Perché è appunto Sorta questa domanda Cioè Soprattutto durante Una presentazione Addirittura durante Una presentazione Di Book City Mi è stato posto Questo quesito Mi hanno detto Ma Se continuate a parlarne Vi rendete Antipatici Noiosi Ormai se ne parla Da tutte le parti Posso fare La battuta Politicamente scorretta Prego Non sono vegani Bene 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 così No dai Stiamo scherzando Ho fatto Ho fatto il warning Il warning Disclaimer Prima A noi cosa ci interessa Chi amate Siamo tutte persone uguali Allora in un futuro utopico Io spero Che diventeremo tutte persone uguali Agli occhi degli altri Ma è me Finché non abbiamo Gli stessi diritti Finché la comunità Non ha gli stessi diritti Ciò è Poco praticabile E quindi La comunità stessa Mi ha invitato a parlarne La comunità stessa Ha detto Più si scrive E più Si esternano Determinate Determinati sentimenti Più si normalizza Se noi tacciamo Alla fine Passiamo come non detto Come sottointeso E si finisce nel dimenticatoio Anche per delle cause Molto più importanti Che travalicano l'arte Ti chiedo una cosa Proprio sulla parola queer Perché con la parola queer Si è riuscito a fare un processo Che magari con altre parole Non si è riuscito a fare Immagino la n-word Immagino tante altre parole Che invece vengono ancora utilizzate Come insulto E che anche la comunità Fa fatica A digerire Ma forse perché Appunto è stato un processo Sicuramente che È arrivato Non dal nostro paese Ahimè Perché siamo molto indietro Da questo punto di vista E poi come ho detto È stato un termine Un termine ombrello Che è stato accolto In varie sfumature Io all'inizio del volume Spiego Proprio in lingua italiana Il significato Di moltissime sigle Afferenti alla comunità Perché secondo me C'è proprio una barriera All'ingresso Che non porta Ad una discussione Io non voglio convincere nessuno Io esterno E rendo Comprensibile Ad un pubblico Il più vasto possibile Ciò che sta accadendo Ciò che sentono Quotidianamente Con ovviamente Determinati intervalli Perché poi succedono Tante cose Nel mondo Che a seconda Di ciò che succede I grandi mezzi di comunicazione Ne parlano E poi quando Il fatto si spegne O la tensione cala Si passa ad altro E molto spesso Il DDL ZAN Piuttosto che Altre Legge Cirinna Mi ricordo Altri argomenti Afferenti alla comunità Saltano fuori E quindi saltano fuori Con la conseguenza Di tutte queste sigle Questi termini Che a me derivano Molto spesso Come queer Abbiamo visto Da una lingua Non nostra Diciamo che in Italia La lingua inglese È la lingua Universalmente Riconosciuta Che viene utilizzata Nel business In tutti gli altri campi Però si hanno Delle difficoltà Quando uno Utilizza un termine In inglese Molto spesso Non salve lo significato E soprattutto La sua comprensione Viene mediata Da ciò che ha sentito I grandi mezzi Di comunicazione E non sempre Le informazioni Sono corrette Quindi bisogna Spiegarle Così poi Quando una persona Utilizza determinati Termini Anche per schernire Abbiamo praticamente La prova provata Cioè io ti ho spiegato Cosa significa Tu sei così Conscio Di poterlo utilizzare In un modo o nell'altro Se lo utilizzi Per ferire Allora poi c'è Il liber arbitrio Vuol dire che Vuoi utilizzarlo In quella maniera Non posso più scusarti Perché non sai Che cosa in realtà Significhi Per chi ha vissuto Determinate sofferenze Giusto Giustissimo Tra l'altro La Q di LGBTQI Plus La Q sta per qui Giusto Cioè quella roba lì Ok La sigla si sta Giustamente ampliando Sempre di più Forse è utile Trovare una parola Perché ormai diventa Un codice fiscale Diventato Quindi effettivamente È complicato Ma questo ci fa capire La complessità E anche la bellezza In realtà Di quanto è Il nostro mondo adesso Siamo veramente Difficilmente Incasellabili Quindi ci sta Che questa sigla Si è diventata Così lunga Nel mondo dell'arte Si devono dare Dei termini Alle correnti Ai movimenti Cioè per essere Riconosciuto Dalla comunità Scientifica Che sta dietro A questa nicchia Rispetto ovviamente A tanti altri Settori economici Tu devi avere Una definizione L'hanno avuta Gli impressionisti L'hanno avuta Cioè varie correnti Che troviamo Poi sui libri Quindi quello È un po' Anche un discorso Afferente al settore Di cui mi occupo Chiarissimo Andiamo avanti Però dopo una piccola pausa Ma adesso invece è il momento di San Giovanni È il momento della musica E poi piccolo break Torniamo qui sempre con la nostra ospite Elisabetta Roncati A parlare di arte queer Del suo libro E magari ci siano qualche indicazione Su cosa fare in queste feste Magari qualche bella mostra Da andare a vedere Ci saranno Eh volentieri Ma guarda Ce ne sono tantissime Allora adesso Fra pochissimo dopo San Giovanni Con Scossa Francesca Michelin Stolite chiacchie Per la Franci C'ho sempre buone parole E basta Ma dai Non me ne ho accorto Quattro mesi Di radio Mi è sempre piaciuta Tutto per tutto Ma non so Come conduttrice Come conduttrice tantissimo Uno dei pochi Che la difende Come cantante anche Nel senso che sai Che c'è un discorso Con la Pausini Che mi piace tanto Anche lei aveva fatto un errore Da conduttrice Che poi è stata lapidata Difesa Difesa Spadatrata Non mi ringrazia No perché tu non sai Elisabetta C'è questa cosa Che io amo tanto La Pausini Ma se non canta Ce l'amo come persona Poi penso che io Ci vorrei uscire Gli ho detto anche Ho fatto un appello Anche qui In radio Laura andiamo anche Caccarochi insieme Ma non cantiamo Le tue canzoni Cantiamo canzoni di altre Lei è brava a cantarmi Mi piace tantissimo Cantiamo le canzoni Di Francesca Micheline Mi piace tantissimo È una simpa Capito La Pausini È una simpa Perché devi per forza Cantarmi le tue canzoni Non può Cioè Secondo me questo Appunto Appunto bravo Invece se usciamo insieme Non ti faccio lavorare Va bene Cioè apprezzo la persona Io Non apprezzo l'artista Ma che ad essere giusto Come ragionamento Cioè apprezzo la persona L'essere umano Non frega che cosa scrivi Cosa canti Invece apprezzo Arte Parte E persona Di Elisabetta Del suo libro Appunto di cui stiamo parlando Allora Arte queer Un libro che racconta Appunto Prima di tutto Mi dicevi diviso in due parti No La prima parte Dove racconto un po' Cosa vuol dire queer E cos'è l'arte queer Giusto Sì la prima parte Dove appunto Spiego i termini Afferenti alla comunità Faccio Un breve Un breve racconto Sempre scritto In maniera chiara Comprensibile Adatta al grande pubblico Racconto Delle episodi Fondamentali Per la storia Della comunità stessa Come mote di Stonewall Come ahimè la piaga Dell'AIDS A cavallo Fra anni 80 e 90 Spiego anche le differenze Perché io stessa A volte usavo il termine IDSH e IV Ahimè come sinonimi In realtà sono due fasi Differenti della malattia C'è un po' di sensibilizzazione Anche in questi confronti Poi si passa A un breve Escurso Sulla storia dell'arte Attenzione Non solo Con artisti Che fanno O che hanno fatto Meglio Parte della comunità Ma anche con Se vogliamo proprio Mettere puntini Sulle persone Eterosessuali Che in realtà Hanno prodotto Comunque Delle opere Dei lavori Dei cicli Ad esempio Di fotografie Sulla comunità Sugli appartenenti Alla comunità In altre decadi storiche Più lontane Dalla nostra E poi si passa E poi si passa al contemporaneo Ecco Intengo a sottolineare Nel senso Storia dell'arte Ma adesso Chi ci sta vedendo La vede Chi ci sta ascoltando La ascolta Sicuramente non sarà pallosa Cioè nel senso Lo spero Sicuramente è una roba Che anzi Vive in voglia E andare E mangiarvi Quelle pagine Ecco Poi si passa invece Agli artisti A presentarci Quanti artisti Alle artisti E agli artisti Sono 50 50 In realtà la rosa Di candidate E candidati Era molto più ampia Però ci sono state Delle persone Che non hanno Addirittura voluto Essere incluse Perché avevano paura Di essere Comunque inserite In un volume In cui Si parla di arte queer Io ho sempre Detto che Non è un libro militante Non è un libro politico Assolutamente Lungi da me E' stato pubblicato Da Rizzoli Però mi hanno fatto Anche presente Che utilizzare Addirittura nel titolo Il termine queer Significa prendere Una posizione Molto probabilmente Probabilmente è vero Anzi non lo posso negare Però come diceva Carlo Alonzi Il personale politico Quindi Bisogna a volte Mettere puntini sulle i Anche qui sono Dopodiché se facevi Un libro di ricette Per Natale Lo chiamavi ricette per Natale Non ricette per le feste Che arrivano a dicembre Cioè nel senso Adesso va bene tutto Va bene cercare I giri di parole Le perifrasi Se arte queer Queer è Non è che potevi E anche All'interno Dei 50 Creativi e creative Viventi Operanti Attualmente C'è un po' un mix Ci sono degli artisti Delle artiste più conosciuti Che quindi possono essere Di richiamo al grande pubblico Magari perché hanno fatto Delle campagne pubblicitarie Molto spesso con dei brand di moda Perché devo dire Che il settore Delle fashion È molto più avanti Da questo punto di vista Molto più aperto Molto più abituato A determinate discussioni E poi invece ci sono Dei ragazzi Delle ragazze Ultracontemporane Molto più giovani Come ho fatto A sceglierli E a sceglierle Perché molto spesso Mi viene fatta questa domanda Dovevano Ti sei fatta Magari un milione di euro Anche tu Come fanno tutti Gli influencer Magari Magari ma invece no Come hai fatto Dovevano avere almeno Un'opera d'arte Già inserita In delle collezioni Pubbliche Cioè in dei posti In cui una persona Possa coi propri occhi Andare a vedere dal vivo Il lavoro dell'artista E anche qui Formarsi una propria opinione Io posso descrivertelo Ci sono ovviamente A corredo Di ogni escursus Sugli artisti Un'opera Caratterizzante La loro poetica Però è fondamentale Che andando magari In viaggi di piacere In viaggi di lavoro Si capita magari In un determinato museo E si ha la possibilità Dal vivo di vederle Se non avevano un'opera In collezioni pubbliche Io non mi sono sentita Per questo principio Che ho scelto Di inserirli al momento All'interno della pubblicazione Cioè capito Se tu hai soldi Per comprarti un'opera E utilizzatela solo Sul caminetto In casa Non vai sul libro Di Elisabeth Giustamente Posso dire Che è un requisito Minimo Giusto Sì mi sembra giusto Non credo utilizzato da tutti Ma In realtà sai Era un po' difficile Perché questa è la prima Pubblicazione in lingua italiana Su queste tematiche Che unisce creatività E queerness E quindi non avendo Dei precedenti Nel bene o nel male Non avevamo anche Dei termini di paragone O dei metodi scientifici Con l'editore Per creare Una base Da cui partire Cioè abbiamo dovuto Rimboccarci le maniche E fare tutto da sole E da sole Inventarsi anche un metodo Qui in questo caso Esatto Il libro è a firma Elisabeth Aroncati Non usi Il tuo pseudonimo Su Instagram Che ricordiamo Chi ti vuole seguire Su Instagram Art Nomade Milan Art Nomade Milan Te capi? Assolutamente Va bene Perché mi metti Tu sei il mio Ascoltatore medio Se capisci tu Capisco tutti La mia cartina Torna sole Se abbiamo detto Le cose bene Ma perché mi sentite bene Le cose Non è che possiamo Stare qua Con tutti i soldi Che ci pagano Per stare qua La mattina Non è che possiamo Rubare i soldi A Crystal Radio Se ha mai Infatti Non vorrei mai Invece non gli ha rubati I soldi Non lo so Non gli ha rubato Assolutamente non gli ha rubati Non ha rubato soldi Fettola venite Fettola venite Però fa tanto parlare di sé Però gli vogliamo tanto bene A Britney Spears Con Baby One More Time Spears Baby One More Time Scusate ridevamo Perché insomma Forion si chiacchiera Si ride Si scherza Maniera goliardica Maniera goliardica E subito con la nostra Ospite di oggi Elisabetta Roncati Che ci stava presentando Il libro Arte Queer Elisabetta Dicevamo Lo troviamo ovunque Sì Nelle librerie Negli store online Essendo edito da Rizzoli È facilmente referibile Diciamo Salutiamo Rizzoli Noi salutiamo sempre Chiunque citiamo Noi salutiamo È una sorta di Perché cosa vuol dire Perché siamo un po' Di paracure Sì Siete educati Avrei detto io Ok Sono stato un po' Forse Sono andato un po' Oltre Te devi piantare Ascoltare a certa gente In radio Ma non c'entra niente Che dice le parolacce E poi vieni qua A dirle qua Non è vero Saluto a Cruciani Ricordiamo Ricordiamo che tra tutte e due Quello che dice Il maggior numero di parolacce È lui Lui chi? Tu Non ti vedono a casa Ci possono vedere Su Milano News Ma chi ci ascolta Su questa radio Non ti vedeva Potrete tranquillamente Costatare che è così Io non dico mai parolacce No No Allora Elisabetta Prima di salutarci Appunto Ricordiamo Come vi hai detto Il tuo libro Lo troviamo ovunque Store online Liberia e tutto Tu un po' però Salutarci Andare via Senza darci qualche dritta Su come Nutrire la nostra mente I nostri occhi In questo periodo natalizio Ovviamente su Milano Sì Sa che noi No Ma io potremmo spaziare Ixul Leone Fuori da Milano C'è l'Antartide Sì 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 C'è un confine Un muro Come è che Lì trovo di spade Che c'è la The winter is coming E basta Cioè noi Fuori da Milano Qua come tempo però ragazzi Anche a Milano oggi Una nebbia Oggi finalmente C'è la nebbia a Milano C'è la scighiera In 24 10 gradi però Sì infatti Questo è tutto un altro discorso Tutto un altro discorso Dicevamo allora Cosa possiamo Allora sicuramente Se vogliamo andare anche Su qualcosa di gratuito Che fa sempre piacere Anche per i nostri ascoltatori Fa piacerissimo Fa piacerissimo Si rinnova Anche quest'anno La manifestazione Natalizia Comunque l'evento Dedicato al Natale Con l'esposizione Di un'opera Di un grande capolavoro In maniera visitabile In maniera gratuita A Palazzo Marino Specificatamente In Sala Lessi Quindi in piazza Della Scala È stata proposto E si potrà vedere Fino al 14 gennaio 2024 Il battesimo di Cristo Del Perugino Per ricordare Anche 500 anni Dalla scomparsa Del grande artista Quindi questa è sicuramente Un'occasione Da non perdere Ma cosa è successo Quest'anno Cosa ha fatto La nostra magnifica Municipalità Ha deciso Di ampliare L'iniziativa Quindi negli restanti Anzi in tutti Gli otto municipi Del capoluogo Meneghino Saranno visitabili Gratuitamente Dal pubblico Altre opere d'arte Che non arrivano In realtà Da prestiti Istituzionali Al di fuori Dalla nostra amata Milano Ma arrivano Dalle collezioni Civiche E per la prima volta Sono state esposte Nelle biblioteche Di quartiere E comunque In tutti Degli altri centri Di aggregazione Appunto Nei municipi Quindi è un po' Natale diffuso Che bello Questa è una delle poche cose diffuse Che può piacermi Mi piace Va nel tuo municipio E cerca Infatti Mi piace Mi piace Vedi che il comune Fa le cose buone E poi voglio aggiungere Anche un'altra chicca Anche se Ahimè Non è più visitabile Gratuitamente Ma lo era Martedì E mercoledì Quindi ieri Ma è stata inaugurata Una nuova sala Nel Museo Civico Di Storia Naturale Quindi quel bellissimo edificio Che uno trova Nei giardini di Corso Venezia Con quell'architettura Che davvero colpisce Perché ciò? Perché il percorso È stato un po' rinnovato E si è giunta a questa sala Sull'evoluzione Della specie umana Quindi hanno fatto Delle attività Ci sono state Delle conferenze La presentazione al pubblico Non potete più visitarlo gratuitamente Però sicuramente È qualcosa di estremamente carino Innovativo E diverso Anche per portare Ad esempio I bambini Piuttosto che Il museo attira tanto A volte non è Granché visitato Mi duele dirlo Dagli operatori di settore Che tendono di più A visitare Delle mostre temporane Oppure degli argomenti Attinenti ai grandi artisti Il museo di storia naturale Viene sempre un po' visto Come qualcosa Ibrido Però offre tanto Voglio fare un appello Vai fai un appello I musei Perché alla fine Sono due o tre Quelli che durante I cinque anni Di squadra elementare Fanno visitare Esatto Poi andateli a rivedere dopo Perché sono completamente diversi Molto banalmente Perché tu hai occhi diversi Se li vedi da adulto Piuttosto che da adulto Dopodiché Il museo della scienza La tecnica di Milano Credo di andare C'è bene una volta all'anno Esatto Io mi riferivo Per esempio A quello Che è un capolavoro E posso dire Può essere molto propedeutico Agli altri musei Tu vai lì Vedi Io poi no Come sono I trenini Le macchinine Queste robe qui Sottomarini Bravissimo Fai il maschietto alfa Della situazione Benissimo Bravo Un applauso Dopodiché però Magari ti viene voglia E scopri che Invece nei musei C'hanno delle robe bellissime Da vedere Dei pezzi Da 90 Che sono veramente Qualcosa di stupendo Elisabetta Grazie a voi No ti ringraziamo a te Grazie mille Ricordiamo appunto Elisabetta Roncati Con Arte Queer In ogni libreria Store online Ovunque vogliate Seguitela anche su Instagram Poi comunque Troverete tutti i vari commenti Anche nei reel C'è i tuoi commenti tag Nei reel E tutto quello che ne conseguirà A questa intervista Spero di rivederti presto Buone feste Grazie anche a voi E buon anno Speriamo con un po' più Di tranquillità E di pace per tutti Va bene Ogni anno lo diciamo Poi è sempre peggio No 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 Ci speriamo davvero Questa volta Impegniamoci Impegniamoci un attimo A crederci almeno Così potrebbe aiutarci questo Andiamo avanti Con un po' di musica E poi torniamo qui Con la nostra stigla Per salutarci E l'anima E l'anima E l'anima E l'anima